È essenziale, imprescindibile per elevare non solo la cultura della sicurezza, ma anche la capacità di fare sistema, di agire come ecosistema che coinvolga i player pubblici, i player della sicurezza nazionale e sovranazionale, le aziende private leader in questo contesto, che in particolare Leonardo per ragioni note, ma in generale debbono sentire anche una responsabilità rispetto a questo innalzamento della sicurezza e della cyber resilience complessiva del sistema paese, e naturalmente anche gli innovatori, ovunque essi siano, tutti coloro, start-up, università, centri di ricerca, laboratori che devono e possono fare sempre più sistema per innalzare la capacità del sistema paese in tutte le sue articolazioni di essere sicuro e resiliente by design, se posso dire.